Padoin Parte a Campora Il tiro e il gol Il gol di a Campora L'entusiasmo dei 3.000 tifosi Dello Spezia Il secondo palo Boccalon Boccalon Fai fattire l'Alessandria Il gol del 2-1 Titoli di coda L'Alessandria completa Una nuova impresa Elimina anche lo Spezia E si aggiudica la semifinale Con il Milan di Mijajlovic Finisce qui È davvero la notte delle streghe Il Benevento va in semifinale Playoff Continua il suo sogno L'Alessandria completa E si sta avvicinando Da cosa sia l'amico L'Alessandria completa E quindi Il risultato va in semifinare E quindi Il benevento è avvicinare E quindi Il benevento è di essere E quindi Il benevento è di essere In questo caso Sono felicissimo per questa mia scelta, sono felicissimo di iniziare a lavorare, di intraprendere un percorso. Ai nastri di partenza la stagione 2019-2020 della serie B calcistica che proprio quest'anno compie 90 anni. Lo Spezia dopo un esilio durato 55 anni e la successiva rinascita post-fallimento disputa l'ottavo campionato cadetto consecutivo che per ben 5 volte l'ha visto raggiungere i play-off. Si riparte da un allenatore emergente come Vincenzo Italiano affamato e con un'idea di calcio ben precisa in testa. Mi auguro che vieni fuori superando con merito questo esame qua. Mi auguro che vieni fuori superando con merito questo esame qua. Mi auguro che vieni fuori superando con merito questo esame qua. Sono io che faccio le scelte, sono io che mando dentro i giocatori, sono io che indico le strategie, quello che è da proporre. E se in questo momento qua non sta portando risultati, il primo responsabile sono io. È normale che quando le cose vanno bene sono il primo a essere felice, vanno male, sono il primo, ripeto, responsabile di tutto questo che sta accadendo. E devo cercare anche io di dare qualcosa in più per cercare di venire fuori da questo momento. Notte fonda in casa Spezia, un'altra sconfitta al picco, la terza consecutiva in campionato e lo Spezia sprofonda sempre di più in classifica. Meritavamo molto, ma molto di più. È un periodo così che gira male e dobbiamo solo continuare a crederci perché oggi contro la prima in classifica di sicuro la sconfitta non la... Questa squadra non la meritasse. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti